ciao vi voglio parlare di una scrittrice di cui si parla molto poco non so bene perché e a me dispiace molto si chiama maria giacobbe è nata a nuoro nel 1928 ma dalla fine degli anni 50 vive in danimarca copenhagen dove si è sposata dove ha fatto dei figli e dove ha continuato a scrivere a scrivere romanzi poesie saggi a scrivere per i giornali a diffondere la cultura italiana e la cultura sarda in danimarca il suo primo libro quello che le valso anche il premio vareggio opera prima e che in generale l'ha fatta conoscere come scrittrice si intitola diario di una maestrina l'ha pubblicato il maestrale è questo qua è un libro che non è un romanzo ma è appunto il il diario una cronaca della sua esperienza di maestra negli anni appunto dell'immediato dopoguerra nei paesini della sardegna della in particolare quelli della provincia di nuoro dove lei era andata ad insegnare sono paesi che in quegli anni sono veramente molto poveri fa impressione per noi leggere queste pagine e immaginare la povertà assoluta in cui moltissime famiglie vivevano e c'è il racconto delle difficoltà quotidiane di un insegnamento a dei bambini a dei ragazzi ma anche agli adulti che non hanno l'abitudine alla scuola che hanno invece la necessità del lavoro e la necessità di preoccuparsi di cose molto concrete è un libro secondo me molto bello sia dal punto di vista narrativo sia dal punto di vista invece proprio più pertinente alla scuola i discorsi e ragionamenti sulla scuola un libro che fu elogiato anche da Tullio De Mauro fu tradotto in moltissime lingue ebbe molto successo in quegli anni e secondo me per quanto le situazioni siano per fortuna molto diverse sia in sardegna ma anche nel resto d'italia ci sono dei punti dei ragionamenti delle questioni che comunque purtroppo rimangono ancora molto simili nelle scuole italiane e quindi un libro che consiglio di leggere un po' a tutti appena finirà tutto questo potrete andare a cercarlo in biblioteca ordinarlo in libreria ordinarlo al maestrale questo magari potete farlo anche adesso e maria giacobbe non ha scritto solo questo libro ne ha scritti molti altri o un altro che consiglio è arcipelaghi da cui è stato anche tratto un film da giovanni columbu e quindi nel caso vi consiglio di guardare anche il film ciao